amici e guardoni degli scacchi ben ritrovati rimettiamo mano a una delle rubriche più antiche del canale la rubrica della caccia i bot di chess.com li abbiamo platinati tutti fino alla soglia dei 1900 euro ci tocca oggi olga ucraina quella delle aperture strane andiamo o questa è la grob vero si va bene di 5 allora cos'è sta roba prendiamo adesso non si può difendere perché lui spinge ma anche chi se ne frega voglio dire penso no adesso io non sono pratico di queste cose qua ma insomma vabbè niente sviluppiamo i pezzi io ho come una sensazione di arroccare lungo poi a un certo punto bam va bene vuole darmi il matto così proprio proprio senza vergogna ok adesso questa qui era minacciata quindi difende va bene però 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 se io prendo qua qua tante mosse buone anche questa è una bella mossa che minaccia una scoperta del cavallo uh qua c'è matto o no scacco re qua entro forse no vedete che se tolgo il cavallo c'è la scoperta di questi due qui beh male che va voglio dire mangio una torre no se invece scacco mangia con la donna scacco si dovrebbe essere giusta vediamo eh magari ho sbagliato eh perfetto il re vedete che è una casa di fuga scacco scacco deve parare col cavallo e c'è matto mi pare si grande gra ah no è difeso dall'alfiere ma porco giuda ma ce n'è sempre una però eh ma va 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 non avevo visto questo particolare vabbè posizione però è promettente eh quindi io gli ho dato un pezzo per due pedoni e l'iniziativa va bene dunque possibilità questa sposta la torre non cambia niente direi allora senz'altro a Rocco Lungo che mettiamo la torre sul re ok ok questa non è che mi convince troppo però io prendo vediamo cosa gioca ben fuori con la donna va bene però 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 si crea un po' di casa di fuga va bene però male che va c'è scacco e deve coprire con che cosa con l'alfiere beh questa è buona per forza scacco intanto ah e qua perde la donna così giusto? controlliamo bene così infilo infilo tutto anche torre qua è buona volendo ma questa mi sembra migliore se non mi sbaglio ecco esatto perfetto presa evviva buona l'attacco ha funzionato bene ok bisogna dare matto a questo signore adesso come si fa signore signora insomma quello che sia ma direi attiviamo l'ultimo pezzo minacciamo ma oddio qua cosa si può fare spinta no presa presa ma non è granché non serve niente vabbè attiviamo la torre no ok va bene non abbandona? adesso io non spiego cosa fare allora dunque la donna tiene questa casa di fuga del re per cui se io facile facile faccio così e così vediamo un po' ah si fa il buco di là guarda e beh io la gioco lo stesso perché ormai l'ho fatta ah ok ok questa è buona att... no questa attacca doppiamente l'alfiere e la torre però c'è il cavallo che tiene vabbè cambiamo un pezzo se ci riesce toh dai mi attacca ti vengo qua dunque controlliamo bene ma mi pare che presa una cosa che uno dice ah c'è un tatticismo no non c'è perché uno dice metto la torre qui e inchiodo l'alfiere sulla torre no? però lui ha scacco di scoperta e mi parte la torre che è in difesa dietro se vedo bene dunque qui questo coso è attaccato due volte ed è difeso due volte però se io prendo questo cavallo qua è in presa presa lui prende posso anche giocare così bam ah no c'è l'alfiere sempre qua beh ma se io vengo ancora dentro con una questa è buona così tolgo la torre dalla presa la aggiungo all'attacco se prende di cavallo male che va riprendo eh difficile presa presa no stavo guardando però che se vengo qua dunque palle calcolare torre 2 presa posso riprendere e attacco anche la torre ma si forse si dai proviamo questa ah siamo sicuri? ma questa massa perde però ah perché difende da sotto questo punto qua dunque questo punto qua è difeso da quanti? dal re alfiere e cavallo quindi da 3 pezzi io l'attacco con 4 quindi dovrei riuscire a sfondare scacco ma io riprendo con la torre oppure cosa faccio? vado io a correre no se vado io a correre è un casino scacco ok sono tutto sudato un po' che fa un caldo da cine dunque paro presa 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 si dunque paro presa presa si si può fare oppure vengo via con il re mi da ancora uno scacco ma io verrei via con il re sa? guarda ok ok adesso adesso ah ostia è vero corre qua io non posso più oh che casino mamma mia mamma mia ah beh ma noi facciamo così e ne mettiamo un'altra guarda uh questo qui oh questo qua è in presa questo pedone perché è il cavallo che lo difende inchiodato ok dai ma è possibile che non sia un matto forzato qua scacco no non c'è una mazza cioè non so se non c'è una mazza diciamo qui scacco lui viene qua o anche qua è interessante che preparo la scoperta sulla torre si leva vabbè ammucchiamo tutto e senti in certo momento sbutteremo giusto cavallo rompi uova dunque madonna sentissima al bunker di Berlino difeso tre volte attaccato tre volte dio mio che noia così porca miseria vede tutto vede vede tutto così no se prende casca tutto giù lì si ok oddio mio e se vengo no dove c'è più niente scacchi sono un gioco durissimo se spingo qua dunque se prende io prendo si lui minaccia di fare qualche lavoro così con scacco go via si va bene ma non penso che ci sia più niente insomma penso che ci sia vinta esatto scacco a parte che è presa 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 e mal che vada mi faccio la donna per le due torri che non è male presa presa e presa questa è un'idea oppure l'assurda presa presa scacco vien qua scacco no non ci vedo fino a lì non ci vedo non ci vedo vabbè facciamo la donna per le due torri e basta dai basta ok adesso veniamo di qua spingiamo il pedone e basta ah già è vero bravo Andrea bravo vabbè ok qua si potrebbe fare una cosa strafiga che sarebbe boom boom e andare a promozione e penso che lo farò perché il pedone è qui re fuori dal quadrato ok così è vittoria proprio te evitiamo tutte le complicazioni guarda io mi scuso se il commento non è stato il top ma era molto complessa come avete visto ok adesso vediamo di non farci dare lo stallo allora il re lo mattiamo in fondo lo facciamo così così adesso questione di qualche mossa lo chiudiamo nell'ultima traversa sempre importanti da sapere i matti elementari chiuso nell'ultima traversa adesso andiamo su con il re ed è una festa adesso matto in una ci sono tantissimi matti c'è matto no questo non è matto c'è matto matto e matto ce n'è tre e diamogli quello qua così bella bella signori top 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 abbiamo platinato il bot da 1900 volevo vedere se avete pazienza un minuto quante quanta precisione quanta percentuale di cose c'ho mamma mia sono stanchissimo e sono sfinito vediamo dunque revisione non so se questo povero computer reggerà il compito impari intanto ci guardiamo un po' di cielo notturno e così va bene ok forse no un attimo va ecco allora solo per farvi vedere questo un decoroso 86 e 4 di precisione vi segnalo che ho una mossa geniale che è stata proprio quel cavallo in c2 bella questa vince praticamente forzatamente poi ci ho messo 800 mosse a vincere la partita ma va bene lo stesso va bene cari io vi saluto vi ringrazio fate molto molto i bravi a presto mettete like e iscrivetevi ciao ciao